Kate Middleton ha aggiornato il mondo intero sul suo stato di salute Con un video commovente, ha raccontato la sua storia. Per tutto il periodo della chemioterapia, la principessa del Galles ha potuto fare affidamento sulla famiglia I tre figli, il marito William, i suoi genitori e le amiche di sempre non l'hanno lasciata un attimo e sono sempre rimasti accanto a lei Anche il principe William ha ridotto i suoi impegni istituzionali per dare conforto alla moglie Kate nei momenti più difficili della chemioterapia Dal giorno in cui ha scoperto di avere un cancro, il percorso è stato più difficile che mai La decisione di condividere la sua condizione per sensibilizzare e stare accanto a chi stava vivendo lo stesso momento, ha aumentato il bene che tutti provano con fronti della futura regina d'Inghilterra In questi mesi però, dopo il video in cui disse di star affrontando la chemioterapia preventiva, è calato il silenzio sulle condizioni di salute di Kate Middleton Alcune volte si sono diffuse voci che stesse meglio e negli ultimi mesi anche apparsa in qualche occasione pubblica Kate Middleton sta meglio, il video commovente sui social.Oggi, sempre su social, arriva la lieta notizia che tutti aspettavano La principessa Kate sta bene e la chemioterapia è finita.La stessa famiglia che le è stata accanto nel percorso di cure è protagonista con lei di un video emozionale che ha fatto commuovere tutti Un messaggio di Catherine, la principessa del Galles.Comincia così il lungo testo a corredo del video Mentre l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia . Kate Middleton racconta come ha vissuto questo periodo, gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute . Avere un cancro fa paura, spiega la futura regina d'Inghilterra È un percorso complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone più vicine, e che ti mette faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima, e con ciò, una nuova prospettiva su tutto . Tuttavia, dai momenti difficili si impara sempre qualcosa Questo periodo ha soprattutto ricordato a William e a me di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate Di amare ed essere semplicemente amati Kate Middleton spiega che adesso è il momento di fare ciò che posso per restare libera dal cancro . Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e la completa ripresa è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene . La principessa ha spiegato che per ora non tornerà al lavoro, ma spera di farlo nei prossimi mesi, non vedo l'ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò . . La vita ha offerto a Kate Middleton una seconda occasione, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza ed apprezzamento della vita Infine, la principessa lancia un messaggio a chi sta affrontando la chemioterapia, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano . Dall'oscurità può arrivare la luce, quindi lasciate che quella luce brilli